ciao a tutti ragazzi sono silver di x e in questo nuovo video sono di nuovo in compagnia chi di mia nonna di tua nonna di alice so per fare il livello sunset vista che avevo incominciato ma non ho fatto quindi eccoci qua allora tu lo stai a fa ma tu le macchie hai fatto com'è difficile o facile oddio le pedane o mio dio che cazzo è è difficile difficile porca porca miseria cialato no merda che culo paura a buttarmi paura a buttarmi vai ragazzi ce la fa il mostro che minchia vuoi puntati che morbido morbido aspetta vai no 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 perché queste ciccione c'è poi che mito ok che mito c'è proprio mi devono fare una statua che cazzo è qua a me ne vanno nell'acqua con un cretino che ma non è acqua che droi per piacere il nostro detestato petrolio non incominciamo con quella parolina di di petrolio che è tanto ma rivo di messaggio al cielo così come se non fosse niente come se fosse tutto tranquillo ok no se ne va nella nel petrolio nel bicchiere di petrolio no 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 e no no voi non capite cosa c'è dietro un bicchiere di petrolio la storia e odio profondo l'odio profondo abbiamo bannato un bel po di persone no quanto abbiamo bannato bannate per il fatto di che di petrolio 3 3 3 persone perché hanno detto la parola petrolio no ragazzi la nostra community che pubblicizziamo pubblicizziamo la community perché sennò ci fanno il culo la nostra community di google più che cazzo è qua dentro che cazzo è qua dentro sono entrato in un buco sono entrato a una testa dove c'è l'immagine di un serpente allo pubblicitiamo la community power of anime andate a mettervi dentro ci sono io come proprietario e alice come moderatrice perciò vi spaccheremo il culo se infrangite qualche regola 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 perché noi possiamo ci abbiamo l'autorizzazione dei tanti proprietari oddio sono morto e va nell'acqua perché fa figo infatti si infreggono qualche regola veramente vi bagniamo tutti non ce ne frega un cazzo potete messo la mia quanti volete ma la community la community oddio mi ucciso no ma l'edizione a che punto fai boh in un punto dove c'è una rana che salta aspetta no sto morendo perché sono passati i pipistrelli di merda non è una rana ma è una lucertola vabbè me ne sono andata giù come una cantina io ormai ti parlo anch'io al femminile ma non ce ne frega un cazzo basta che ecco qualche cosa perché ho caricato i dati porca miseria sbagliata ok ce l'ho fatta allora checkpoint come funziona adesso qua o mio dio che è tipo the lost city a questo livello tt è praticamente il continuo al continuo vai di livelli tropicali così qua vedi me parla parla è difficile se tu invece vedi vicoso crash bandico scuso crash bandico 2 o 3 sono livelli pure in tutto il mondo no il 3 invece in tutte le ere in tutti i tempi ok invece questo quando solo sulle usi le tropicali dei maya e delle maglie perciò non fanno sì c'è tipo si era bancato una pedana io ho perso il trino aspetto per se ho perso il trino delle tre aspetta che riprovo sotto lo prendo vai genio no 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 dai stavo avendo un colpo di genio maledizione è colpa mia no no poi quando dice è colpa tua ma per una volta che non ti sto dalla colpa oh ma vaffanculo che cazzo vuol oh mio dio oh mio dio se ne va giù colpa tua perché è sempre colpa mia perché sei tu che mi distrai anche se senza di te non sarei mai arrivato a sto punto perché non so capire un cazzo non so se allora cosa vuoi di chi non ti voglio troppo b no no so cadendo a giù so cadendo a giù cadendo a giù perché fa se stronzate se stronzate non li facevo nemmeno quando avevo due anni 16 vite non lo so io faccio non devo io c'ho 55 vite perché fanno faccio rapido quindi posso ricominciare da dove cazzo voglio senza che tu perdi la vita ma tutta la la scenetta io c'è il salvaggio rapido quindi no ce l'ho fatto ok 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 sono arrivato a casa a casa 14 15 un po' molto tempo io voglio parlare che cazzo ne so ho con il 17 qua dentro sono certi point 15 12 12 ieri come l'altra passano video blocchi che si avevano testestina ok paulcettino hai il tuo libro specchi spaglia per 2 va che mito c'è tu non ma io sto sopra sto so penso no ma parlo come un coglione proprio sono caduto se nemmeno nemmeno io cado così se ne va c'è sei più avanti di me ormai sono diventata brava che stronzo questo è merito tuo merito mio intanto io non ero nemmeno bloccato merito hai visto se ho capito una nuova parola merito tuo mi bruciano qua ok vai 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 che facciamo il culo vai 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 spacchiamo i culi a tutti perché noi con questo personaggio lui non è che siamo sono morto non siamo come te tu non sei gioca no sono morta faccio passare faccio passare faccio passare ma faccia ma non faccia il piacere sai che prendo una rincorsa minchia che mito e scivola pure madonna ce la sto facendo sclera sclera che mi piace quando sclera a morte oh mio dio oh mio dio ce la fa ragazzi ce la fa nooo che figo nooo che figo che figacine proprio senza i salvataggi automatici non so giocare cioè vedi che schifo faccio che che giocatore di merda che sono non so giocare i video giù ti ti rendi conto eh io se perdo tutte le vite devo ricominciare da non si sa quale livello io lo so ah sono arrivato sopra sopra che succede sopra sopra finisce livello che scivola mamma mia l'hai notato pure tu si alla fine si c'è proprio caso mamma santa viva il scivola nah un coglione no 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 morirò giovane lo so morirò non riesco a fare sta parte mamma nonna ma affanculo che cos'hai fatto ah non è finita qua ah sta ancora lungo il livello minchia è lungo il fatto qua oddio c'è una rana che salta eh tu mi ha fatto morire mi nonna mi nonna tua nonna eh mi nonna in cariola in cariola in cariola yes ci sono delle scatole bianche che non posso prendere bene daglie 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 non era daglie 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 aia ah no che figo no c'è un batman appeso nel vuoto lì che cazzo ah si e si stranamente si accendono nel vuoto mi hai ragione hai ragione non ho capito un cazzo ma hai ragione ok no devo rifare da capo questa parte aspetta che se si levano sti muretti da ma devo prendere la testa di l'obbrio no oh la testa di cortez la testa di cortez no bellissimo la testa di mio cortez aspettate eh ma io non l'avevo già battuta quello no quello un altro ma vaffanculo ho quattro vite nooo ma io c'ho cinquantasette vite e cinquantasei in frutti wumpa me ne presti un po' di vite eh se potessi guarda lo sai che nell'ultimo nell'ultimo oh mio dio oh prende la testa e se ne va giù ragazzi però ho preso la testa no si me l'ha segnata la testa 3 v lo sai che nell'ultimo crash bandicott mindover mutant puoi giocare in due si solo che è un gioco di merda eh quelle le problemi cioè ma te c'hai mai giocata? c'hai mai giocata? c'hai mai giocata? io una volta sola però perchè una volta? perchè una volta? perchè non mi è piaciuto ma cosa non ti è piaciuto di quel gioco? bellissimo bellissimo? perchè è bellissimo? perchè non mi è piaciuto di quel gioco? ma che cazzo? ho fatto praticamente tipo mezza partita eh l'ho mandato a fanculo perchè sarò morta non ho capito un cazzo sono morta settecento volte maledizione benedetta della croce no la finisci la finisci ci seguono anche i cristiani cattolici va bene? la devi finita di una vita colpa tua ma colpa tua questo se tu non ti facciò colpa non è colpa mia se tu non ti facciò colpa mio dio che mito mi è colpa mia muoio muoio lo dò muoio lo dò muoio lo dò mi date una vita adesso eh fermo ti do una vita aspetta mi termino la famiglia 60 vite c'ho io oh m'ho preso per il culo sto coso si 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 minchia che bagone proprio cioè come cazzo devo fare qua? salto salto mamma nonna sia tutta la famiglia che mito mi sta grattando ovunque ma che cazzo c'ho oh ma mai finisce sto cazzo di video ah ma questo è ancora il primo livello eh minchia cioè in senso il primo livello del video cioè ma che cazzo si appunto non te ne eri accorto minchia noi dobbiamo fare l'altro livello seee seee cioè avviene un video lunghissimo eh lungo 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 come la coda di un cangu no quale era duro duro come la coda di un cangu aspetta cioè ma mai finisce ma cheee aspetta ancora il secondo bonus sopra allora aspetta eh che cazzo si va di qua da nessuna parte no no prese in culo no cazzo no ho zero vita weee cioè a quante vite stai? ah? quante vite stai? zero cheeeh come cazzo fai a stare in zero io ne ho 61 me ne dai 30 aspetta che mi sono baggato dentro la fiamma cioè ma dai dai che si sta potenziando dai che si sta potenziando mi sono baggato sulla fiamma cioè ma che figo cioè abbiamo fatto 12 minuti per fare solo un cazzo di video cioè un cazzo di livello aspetta dobbiamo finirlo eh quello è il bello 12 minuti per fare un cazzo di livello che ancora dobbiamo finire no 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 ci devo riuscire nooo ci devo riuscire con zero vite ci devo riuscire facciamo solo sto livello in questo video voi facciamo altri video con altri livelli cioè ma che palla immagino i livelli finali che saranno veramente lunghi checkpoint ma tipo in questo gioco stanno dei segreti da per andare in certi livelli mi ricordo avevo letto da qualche parte vero sì ci sono dei livelli con altri sottolivelli criptati e come si fa ad arrivarci? non lo so perché io non ci sono mai arrivata non ne sai niente di qualcuno no poi mi documento meglio ah sì forse ce n'è uno nel livello del laboratorio ah a livello del laboratorio non lo so qual è perché non ci sono mai arrivato eh tipo verso i penulti minchia tu ogni volta per raggiungermi devi fare sto livello e posso me puntate no 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 ora tengo la playstation accesa oh sono arrivato alla fine del livello però non sono riuscito a trovare l'altra Tania no 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 madonna mia ma secondo me veramente c'è un livello nascosto in questo che stiamo facendo in questo che ho appena finito perché non sono riuscito a prendere no 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 sono morta nooo cosa ce la fai? beh dai spegniamo il video adesso dai perché tanto io ho finito il livello o dobbiamo attendere a te aspetta un attimo beh? dove mi fa ripartire No Ah il livello del vulcano è l'ultimo No Sì o no? No Da capo lo devi rifare No Deve rifare da capo Uccidimi Adesso Uccidimi Come non eri bravissima tu No mi deve fare ricominciare dal tempio Solo che mi urta leggermente Mi dai Fa niente Fa niente Salutiamo adesso i nostri cari Beh ragazzi per questo video è tutto Grazie per la visualizzazione Ciao a tutti ragazzi Saluta pure tu Ciao Ciao